Mi ha molto colpito e mi ha molto emozionato l'intervista rilasciata dalla mamma di Noemi, la bambina ferita da un uomo di camorra a Napoli, una bambina che ancora lotta per riuscire a rimanere in vita, una bambina che è stata miracolata, una bambina che i medici hanno strappato alla morte. È tutto perché anche la criminalità organizzata non ha più le regole di una volta, non riesce a salvaguardare i bambini, non riesce a tutelare quei bambini che a meno una volta non erano compresi negli scontri a fuoco. Ma poi queste regole da un po' di tempo sono saltate, ricordiamo il caso di quel bimbo ucciso dalla mafia, addirittura sciolto nell'acido, ricordiamo tanti bambini coinvolti in sparatorie, come se fosse una guerra già, come i bambini che perdono la vita quando c'è una guerra, quando arriva una bomba. È un proiettile vagante che ha quasi stroncato la vita di una bimba che era soltanto a passeggio con la nonna, non stava facendo nulla di male, non chiedeva nulla, voleva solo continuare a vivere. E l'appello della madre garbato, voglio giustizia, non voglio vendetta, è un appello che sicuramente può essere condivisibile verso un uomo che non si è preoccupato per compiere la sua azione criminale di quelle che potevano essere le conseguenze. E in questa società molto complessa, una società in cui i valori sono completamente crollati, questo appello di una giovane madre ci giunge quasi come se fosse un colpo al cuore, come se ci volesse far riflettere su quelle che sono le vere questioni della vita. Il suo racconto, bacerei le mani e i piedi dei medici tutti i giorni per quello che hanno fatto per salvare mia figlia. Ricorda come il primario dell'ospedale, l'uomo che ha operato la bambina, ha detto prega per me perché io ne ho bisogno, dovrò fare qualcosa di impossibile quasi. Eppure questa operazione sembra essere riuscita, questa bambina probabilmente tornerà alla normalità ed è quella normalità che invoca la madre, la possibilità di poter tornare a fare insieme al marito, insieme alla bimba, quella vita che stavano conducendo, normale, a volte banale, a volte esaltante, ma piena di emozioni, piena di amore, verso una bambina. E c'è da chiedersi, una società che non riesce a proteggere una bambina da una pallottola vagante di un camorrista che deve compiere un'esecuzione. Ecco, è una società che probabilmente non riesce a dare quelle risposte che tutti ci aspettiamo, che vive l'ennesima ingiustizia, ingiustizia a cui non ci possiamo rassegnare, anche se ormai, purtroppo, ci siamo abituati.